Sì, perché ognuno rimane nella propria posizione senza fare un passo avanti. Se invece quelle energie vengono impiegate per sviluppare le proprie potenzialità positive, ciascuno fa passi avanti e ogni passo è un avvicinamento all'altro, per cui non sarà più necessario combattersi, ma ci si incontra in posizioni comune. Comuni.